La Guardia di Finanza ha chiuso le indagini sul furto di identità aziendale denunciato a maggio scorso da un imprenditore agricolo di Vittoria in Sicilia, dopo che ha trovato in un supermercato locale delle melanzane, ortaggio, che lui in quel momento non produceva. Ora la parola passa ai giudici che dovranno stabilire, se è stato posto in commercio, un prodotto con indicazioni di origine e provenienza non veritieri, ma soprattutto dovranno stabilire se è vero, come sostiene l'agricoltore, che dopo la sua denuncia la grande distribuzione non compra più da lui per ritorsione. L'azienda in questo momento ha visto passare il suo bilancio da 6 a 2 milioni di euro di fatturato e l'imprenditore ha licenziato quasi 100 impiegati. Il comune di Vittoria e la regione Sicilia si costituiranno parte civile a fianco dell'imprenditore. Altro fatto, emerso dalla vicenda, è che esiste un circuito di prodotti agricoli non italiani che entrano nel circuito del marchio Made in Italy, con l'effetto del calo dei prezzi alla vendita per i produttori italiani, di farci mangiare una cosa per un'altra pagandola anche di più e di svuotare il Made in Italy dal suo valore di lavoro in favore del solo valore di marchio.